Mi motivò, la verità, perché sono molti amici che sono studenti e voglio ascoltare la chiesa di loro per ottenere un certo conocimento, per sapere più e vivere la esperienza del Campus Paris. Il Campus Paris è qualcosa di impressionante, per lo che, osea, reúne demasiada gente, demasiada gente di GIT che le gusta la tecnologia, è appassionata la tecnologia, e poi, osea, seria come algo feo perderse. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!